Ed eccolo il break che aspettavamo da un po' di minuti di Restore di Limalicai mentre Pagliaro vuole andarsene in solitaria, grande giocata con la suola, Pagliaro! Conduzione del pallone magistrale, destro potentissimo, torna subito a meno uno il barbuffe Borsa Pagliaro lo dice a chiare lettere, questa partita è lontana, lontanissima dall'essere finita